La volta celeste ha segni che nutrono l'intera umanità, in ogni luogo e istante. A volte la retta via è un cammino che porta a nulla. L'uomo è un libro e la vita lo legge sempre, la morte lo legge a un solo istante, una volta sola. L'idea del reale è un fuoco dove l'albero è un bastone, nell'oscurità del tempo. Nell'orto di casa, sotto la sbordante pioggia, la primavera è giunta, sporgendo le valigie tra busti e piante, perché il poeta sbaglia sempre. Grazie.